Una ventata di allegria per quanto fuori concorso, in stile Mamma Mia, Susan Beer, la regista premia Oscar per In un mondo migliore, racconta quello che succede alla vigilia di un matrimonio fra due giovani denesi in Italia. Festa, qualche bisticcio, un amore non pronto a sbocciare, quello tra gli sposi, e uno che nasce, quello tra il verovo Pierce Brosnan e la madre della sposa, abbandonata dal marito e ripresa da un tumore. Volevo raccontare due generazioni, quanto sia duro a volte dire la verità, ma anche cosa significhi tornare a vivere. Prossimo film più drammatico o continua con media? Più drammatico. E' drammatico come La vita vera e La nave dolce di Daniele Vicari, il regista di Diaz. Racconta l'odissea nell'agosto del 91 di una nave della speranza con a bordo 20.000 albanesi, arrivati a Bari e poi costretti in uno stadio in condizioni pestiali. Vicari emoziona e tanto con le vicende narrate dai diretti protagonisti di allora, alcuni comuni e altri celebri come il ballerino Clé di Cadio. Delle persone che hanno un vissuto, che hanno delle tradizioni, delle idee, dei pensieri e non soltanto dei numeri. Su quella nave noi dobbiamo metterci in testa che c'eravamo anche noi. Sta accadendo ancora oggi perché dalle statistiche 250.000 giovani italiani l'anno se ne vanno da questo paese, non vengono trattati alla stregua di delinquenti perché emigrano. E anche la mostra ha voluto ricordare oggi la scomparsa del Cardinale Martini, un momento di raccoglimento e preghiera, ma anche la lettura di alcuni brani del Cardinale dalla voce potente dell'attore Fabrizio Gifoni.